Nel pomeriggio di giovedì presso la prefettura di Salerno si terrà l'incontro che servirà a siglare un protocollo di intesa utile ad avviare le operazioni per la demolizione dell'ex mulino del pastificio Antonio Amato situato nella zona orientale di Salerno. L'impresa che deve occuparsi della realizzazione del progetto intesa immobiliare che fa riferimento all'imprenditore Roberto Aversa andrà a realizzare un nuovo complesso residenziale, il progetto Molino Nuovo che porterà case ed una galleria commerciale lungo via Parmenide con uffici e negozi. Ma i lavori in corso nel cantiere e al momento relativi solo a fasi propedeutiche di scavo devono attendere l'intesa con Rete Ferrovie Italiane in merito alla procedura per la demolizione nei pressi della linea ferroviaria. In base all'intesa che verrà sottoscritta giovedì alla presenza di Fabio Rapuano responsabile territoriale di RFI, la circolazione dei treni verrà rallentata durante i giorni e gli orari concordati con l'impresa che effettuerà l'abbattimento della vecchia struttura per dare luogo a case e all'intervento nettamente rimodulato dallo studio Architetti Artigiani Anonimi. Il nuovo complesso architettonico sorgerà sulle ceneri dell'ex pastificio, da tempo abbandonato ed anche al centro del fallimento dell'Antonio Amato, la storica azienda salernitana che produceva pasta e che affidò al francese Jean Novelle la riqualificazione dell'intera area in un progetto però che non ha mai preso piede per la bancarotta dell'azienda.